Ecco, vediamo che sta arrivando il terzo classificato numero 68. Vediamo che sta arrivando il quarto classificato numero 69. Grazie. 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 Grazie a tutti. Vediamo che sta arrivando il quinto classificato, il numero 114. Subito dietro abbiamo il certo numero 28. Vediamo che arriva anche il numero 7, il numero 30. E arriva anche il numero 78. Grazie. 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 Okio. Okio. Ecco arriva il numero 109. Forza dietro nuova. Rial unst стрonto. Rilasciamo questi? Rilasciamo questi? 25, seguito dal numero 93, forza con l'ultimo sforzo, forza nitro curva, abbiamo adesso che arriva il numero 45, ed ecco che sta arrivando il numero 69, dopo la curva l'arrivo, forza, è seguito dal numero 77, non ti la faccio più, non ti la faccio più, non ti la faccio più. Abbiamo qua il numero 14, forza dopo la curva l'arrivo. Bravo, bravo, bravo. Andiamo, arriva il numero 8, seguito dal numero 65. Dai Giancarlo, dai Giancarlo. Bravo, bravo. Abbiamo il numero 35, seguito dal numero 66. Andiamo, arrivo il numero 36. Andiamo, arrivo il numero 111. E con l'arrivo il numero 111. Solo così Il numero 71 euro, però non significa un numero 66. Un numero 61, invece non si spavano. E ne arrivo il numero 46, seguito dal numero 76. E ne arrivo anche il numero 27. E ne arrivo anche il numero 27. E abbiamo il numero 74. E ne arrivo anche il numero 25. Scegliere il numero 27. Ecco, arriva il numero 11. Porta, dietro corvo all'arrivo, seguita dal numero 110. Porta, dietro corvo all'arrivo, seguita dal numero 11. Porta, dietro corvo all'arrivo. Porta, dietro corvo all'arrivo, seguita dal numero 11. Porta, dietro corvo all'arrivo. No, 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 no. Occhio, sta arrivando prudente, arriva il numero 29, seguito dal numero 39 e dal numero 49. Abbiamo il numero 116, seguito dal numero 91. Abbiamo il numero 29, seguito dal numero 49. Ecco che arriva il numero 55. Cinque! Ecco che puoi allo tutto il numero 49. Ecco che puoi allo tutto il numero 49. Arriva il numero 39. Grazie! 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 Renaissance! Grazie! Ti��uloे! Ok, grazie! Abbiamo fatto un'altra scolta, forto, forta, dietro con un'altra scolta. E' un'altra scolta, forto, 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 forto. Grazie. Vediamo che adesso in arrivo il numero 37, forza, forza, dietro la curva l'arrivo, non è qua, forza, forza. Vediamo il numero 115 seguito dal numero 41. Dal numero 3 abbiamo seguiti dal numero 50. Ida numero 23. Parla Salahuna! Parla Salahuna! Parla Salahuna! Parla Salahuna! No dai, no dai. No dai, no dai. No dai, no dai, no dai. 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 No dai, 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 no dai, no dai, no dai. No dai, no dai, no dai. No dai, no dai, no dai, no dai. No dai, no dai, no dai. No dai, no dai, no dai, no dai. No dai, no dai, no dai, no dai, no dai. No dai, no dai, no dai, no dai. No dai, no dai, no dai, no dai. No dai, 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 no dai. Grazie. 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 Ciao, caro, dopo. Vai, Pietro. Ancora, ancora arrivi. Grazie. 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 Occhio, potenti. Arrivo al numero... 63. Grazie. Grazie. I centimetri di squadra. Dicevo, c'è chi vuole? Non so qualcosa, c'è pensavo con il testo ancora di un tempo. E quando tu vieni qua, guarda che mi fa. Oh, perché anche arrivare a Santa Maria non mi sa cosa. La padrettina sono... No. Ma cosa fai? Oh! Oh ho,igibola. Oh, giusto tu? No. No. Andava. No. No. Grazie. 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 Martigo. BNB. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.